A cosa si ispira per il design dell'abbigliamento? Dagli abiti di mia moglie, la rivista di moda, la televisione. Non li copio tali e quali ma le rielaboro un to. Preferisce disegnare i volti o i corpi delle figure femminili? È più divertente disegnare i corpi ma non è la mia specialità. Un consiglio per chi vuole diventare fumettista. Bisogna conoscere e imparare molto, anche al di fuori dei fumetti. Non si può diventare fumettisti leggendo solo fumetti.